Per quanto riguarda la durata del prestito, i libri che si trovano presso la sede centrale possono essere di tre tipi. Lo vediamo dalla colonna Status Copia. Prestito Weekend. Indica che la copia è generalmente esclusa dal prestito, permesso solo nel weekend. Puoi prendere il libro il venerdì dopo le 16, ma devi tassativamente restituirlo entro le 10 del mattino dell'unedì successivo. Prestabile a 20 giorni vuol dire che puoi tenere il libro per 20 giorni. Prestabile vuol dire che il libro è prestabile per 30 giorni se sei uno studente, 60 se sei un laureando, un dottorando, uno specializzando o un docente. Se il libro che cerchi è in prestito, nella colonna Rientro previsto troverai scritta la data entro cui dovrà essere restituito. Puoi prenotarlo, in modo che appena torni dal prestito venga riservato a te. Per farlo, clicca su Prenotazione. Identificati utilizzando le credenziali di Ateneo e conferma la prenotazione selezionando il VAI. Riceverai una mail appena il libro sarà disponibile. I libri che si trovano nella biblioteca centrale hanno collocazioni che iniziano sempre con una sigla, ad esempio, come in questo caso, TESTO, oppure CDDD, SCA, MAI o un'altra sigla. Questa sigla indica la sezione della biblioteca in cui ho riposto il libro ed è seguita poi dal numero che indica la classificazione CDD e quindi la posizione nello scaffale, oltre a indicare l'argomento trattato. Controllare la sigla iniziale è quindi molto importante per non confondersi. In ogni sezione, infatti, è ripetuta la numerazione CDD da 000 a 999. Per i libri che si trovano in magazzino, chiedi al banco prestiti oppure prenotali prima di andare in biblioteca. Per vedere in quale scaffale si trova il libro che cerchi, puoi utilizzare le mappe presenti in biblioteca oppure guardare nelle mappe online. Per qualsiasi problema, chiedi aiuto ai bibliotecari. per qualsiasi problema, chiedi aiuto ai bibliotči al verde edgarire gli andami mappe e ruotosare l'argomento... ... ... Grazie.